La provincia di Teramo ha un lavoro per trovare una soluzione rapida per la collocazione stabile dei 1.200 studenti del convitto e liceo delfico sfrattati dal provvedimento del Tribunale, che ha sequestrato lo storico edificio in centro per la sua scarsa resistenza antisismica. Ad oggi sono 17 le aree individuate come possibili sedi per una struttura provvisoria. Queste aree sono attualmente oggetto di valutazione tecnica da parte di un comitato per stabilire il sito più idoneo per raccogliere temporaneamente tutti gli studenti coinvolti. Nel frattempo procedono anche le azioni legali per provare a chiedere il dissequesto della struttura scolastica originaria. Questo lo stiamo facendo sia per avere quella struttura, sia perché, a nostro giudizio, riteniamo che quel provvedimento possa essere in un certo senso esagerato, anche e soprattutto per il danno socio-economico per la città. Ricordiamo che abbiamo 1.200 alunni, oltre a 250 insegnanti, persone alleate ai genitori, quindi su quell'area, quella zona della città, la mattina in qualche modo gravitano 2.000 persone, quindi significa che bar e esercizi commerciali saranno in grave sofferenza. L'obiettivo è di garantire agli studenti uno spazio sicuro e attrezzato per riprendere regolarmente le lezioni. La struttura del nuovo delfico sarà infatti composta da moduli prefabbricati, già appaltati alla Protezione Civile Nazionale, che saranno rapidamente assemblati per creare una vera e propria scuola temporanea, con tutti i requisiti di sicurezza e funzionalità necessari. Sono 17 le zone e i siti attenzionati, ci sono dei parametri di valutazione per questi siti. Cercheremo di avere il sito idoneo, il migliore, quello che può essere compacente a tante risposte per la città, per il territorio e per le scuole. Sicuramente non possiamo sbagliare sulla scelta, perché è un sito che di fatto diventerà una nuova scuola a tutti gli effetti, perché consideriamo che il tempo totale per rifare tutte le scuole provinciali, quindi secondarie e comunali, a mio avviso sarà dell'ordine dei 15-20 anni. Quindi pensare a una scuola che i più chiamano provvisoria e che deve durare 15-20 anni mi sembra riduttivo. Ma il presidente della provincia ha anche attaccato la regione per non essere al momento intervenuta sulla problematica. Non ci ha né telefonato né dato disponibilità ai propri siti, come ad esempio la ex Casa dello Sport, che è uno dei siti che poteva per noi essere utile per trovare una soluzione quantomeno temporanea. o altri siti, altri terreni, altre aree che qualche altro ente poteva offrirci. Abbiamo chiesto alla Prefettura, un soggetto, diciamo, istituzione dello Stato, che potrebbe darci temporaneamente i locali su Viale Mazzini, che a noi non dispiacerebbe sia perché non allontaniamo troppo dal centro dei ragazzi, sia perché evita loro di fare la scuola durante le ore pomeridiane.